In una lettera scritta, in data 3 giugno del 1917, ad una destinataria che ci rimane ignota, Padre Pio scrive quanto segue. Mettiti spesso alla presenza di Dio, ed offre a Lui tutte le tue azioni, nonché tutte le sofferenze. Non sono contrario che nelle sofferenze tu ti astenga da allagnarti, ma desidererei che lo facessi col Signore, con uno spirito filiale, come lo farebbe un tenero fanciullo con sua madre. E purché si faccia amorosamente, non è mal fatto di lagnarsi, di essere sollevati. Fallo pure con amore e con rassegnazione tra le braccia della volontà di Dio. Non ti turbare se non riesci a fare come vorresti, agli atti di virtù, perché, come ti ho detto, essi non lasciano di essere buoni e graditi a sua divina maestà, ancorché fatti senza tua colpa, languidamente, pesantemente e quasi forzatamente. Tu non potresti dare a Dio altro di migliore che ciò che soffri nel tempo di afflizione è presentemente, mia cara figliuola. Il tuo diletto è per te un mazzolino di merra. Non lasciare quindi di stringerlo fortemente sul tuo petto. Il mio diletto è a me ed io a Lui, e lì sarà sempre nel mio cuore. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.